Ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo in apertura. La morte del giovane ciclista 21enne Simone Roganti. Ebbene è stata aperta un'inchiesta, lunedì sarà effettuata l'autopsia. Sentiamo. La tragica e improvvisa scomparsa di Simone Roganti ha scosso la comunità di Spoltore e il mondo del ciclismo. Il 21enne, promessa delle due ruote, rappresentava una speranza per la città che sognava di vederlo brillare nell'Olimpo dei Campioni. La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di messaggi di cordoglio che testimoniano quanto fosse amato. Nel frattempo la procura della Repubblica di Pescara ha aperto un'indagine per far luce sulle cause del decesso del giovane ciclista venuto nella sua abitazione di Villa Santa Maria la sera di venerdì 30 agosto. Il PM Luca Sciarretta ha disposto l'autopsia che sarà eseguita dal medico legale Cristian Dovidio lunedì mattina per chiarire le circostanze che hanno portato alla sua prematura scomparsa. Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, ha espresso a nome dell'intero Consiglio federale e della nazionale il suo profondo cordoglio stringendosi idealmente alla famiglia di Simone in questo momento di grande dolore. Anche l'amministrazione comunale di Spoltore ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale, un gesto che riflette il sentimento di tristezza che ha colpito l'intera comunità. Numerosi sono stati i gesti di solidarietà e ricordo da parte delle associazioni sportive locali. Lo spoltore calcio ha chiesto di poter giocare la partita di domenica con il lutto al braccio e di osservare un minuto di silenzio in memoria di Simone. Allo stesso modo lo spoltore volley dove milita la sorella di Simone Lucrezia si è unito al dolore della famiglia. Anche il Pescara Calcio ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio del presidente Daniele Sebastiani e della società Delfino Pescara 1936 che si sono uniti al dolore del mondo sportivo per la perdita di un giovane talento abruzzese. Il Team Go Fast, squadra con cui Simone correva, ha pubblicato un toccante messaggio su Facebook ricordando il giovane come un ragazzo umile ed educato e stringendosi attorno alla sua famiglia in questo difficile momento. La comunità si prepara ora a dare l'ultimo saluto a Simone ricordandolo come una stella nascente che seppur troppo presto ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. E ora la cronaca da Teramo. Prima un alterco acceso con urla e poi l'inseguimento per le vie del centro di Teramo con i commercianti che si sono chiusi all'interno. Di nuovo paura, dunque nel capoluogo facciamo il punto nel servizio. Prima un forte alterco, poi lei minaccia e l'inseguimento in pieno centro a Teramo. L'episodio si è verificato ieri sera intorno alle 20 in Piazza Martiri della Libertà sotto gli occhi di numerosi passanti e commercianti, protagonisti alcuni cittadini di origine straniera che si sono affrontati nei pressi del bar Desertis. La situazione è rapidamente degenerata con i coinvolti che si sono inseguiti fino a Via Delfico creando momenti di tensione. Spaventati dall'accaduto, alcuni commercianti hanno deciso di chiudersi nei propri negozi per precauzione. Poco dopo i carabinieri sono giunti sul posto allertati da un egiziano, il quale ha riferito di essere stato aggredito da alcuni magrebini. Pare che non sia il primo episodio del genere e che tutto sia nato da un apprezzamento nei confronti di una ragazza fatto tempo addietro. L'intervento delle Forze dell'Ordine ha contribuito poi a ristabilire la calma nella zona ma l'episodio ha lasciato comunque un forte senso di insicurezza tra i cittadini presenti in piazza. Le Forze dell'Ordine hanno precisato che non si è arrivati alle mani quindi non si può parlare di una vera rissa ma comunque di un episodio che continua a preoccupare chi vive in quella zona. Arriva dall'Associazione NOS, Noi Cultura Politica, la richiesta a Giulia Nova di togliere la cittadinanza onoraria, di revocare la cittadinanza onoraria al duce a Benito Mussolini. Revocare la cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini il 16 maggio 1924 dall'allora commissario prefettizio Ermanno Colucci. E' questa la proposta contenuta in una mozione presentata dal gruppo consigliare NOS, Noi e Cultura Politica, guidato dal consigliere Daniele di Massimo Antonio. In un'epoca in cui molti considerano il fascismo un capitolo ormai chiuso e superato la mozione parte proprio da questa percezione diffusa ma con un approccio diverso. Se davvero vogliamo superare il fascismo facciamolo fino in fondo, afferma il gruppo proponente. Non si tratta, aggiungono, di cancellare o revisionare la storia, ma di scrivere una nuova pagina che sancisca il rifiuto definitivo di quel retaggio. La proposta è chiara. Giulia Nova potrebbe diventare uno dei primi comuni abruzzesi a revocare la cittadinanza onoraria Mussolini. Un atto che poche altre amministrazioni della regione che conferirono simile onorificenze al Duce nella primavera del 1924 hanno avuto il coraggio di compiere. Un precedente c'è stato, come nel caso di Guardia Grele, dove la revoca fu proposta tre anni fa ma non accolta dal consiglio comunale, mantenendo così l'onorificenza Mussolini con il sostegno di una giunta guidata da Donatello di Prizio. La mozione, presentata al consiglio comunale di Giulia Nova, non mira solo a compiere un atto simbolico di rottura con il passato, come spiegano i proponenti, ma anche a riaffermare i valori antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto Comunale. È un gesto, proseguono, che non vuole essere un semplice esercizio di memoria storica, ma una dichiarazione di impegno attuale e futuro contro l'odio razziale, la guerra e l'autoritarismo. Il gruppo consigliare NOS Noi a Cultura Politica si dice certo che i consiglieri di maggioranza, conosciuti per le loro posizioni civiche e antifasciste, non siano in alcun modo paragonabili a coloro che, come accaduto a Guardiaglene, hanno scelto di confermare la cittadinanza onoraria Mussolini. In Abruzzo allarme vendemmia, colpa della siccità per i bianchi, si prevede una produzione in flessione del 30%. L'estate calda e siccitosa non solo ha fatto anticipare i tempi della vendemmia, ma ha fatto anche calare la produzione di uva. Per quanto riguarda il vino, col diretti Abruzzo stima una diminuzione del 30% sui bianchi e non vanno meglio le previsioni per i rossi e sulla campagna delle olive, che partirà subito dopo. Su questo tipo di raccolta si stima per il momento un calo del 50-60% della produzione, ma la situazione è diversa da zona a zona, un po' a macchia di leopardo. In alcuni casi la diminuzione dipende dall'andamento climatico, in altre proprio dalla carenza di piogge e dall'impossibilità di irrigare che hanno portato alla perdita precoce del frutto. Gli agricoltori iniziano anche a contare i danni che verranno e si sta monitorando la situazione territoriale per verificare la possibilità di avanzare richiesta di stato di calamità naturale, allo scopo di tamponare un'emergenza difficile da fronteggiare. Questa non riguarda infatti solo altre colture come i cereali, ma anche l'allevamento. La produzione di foraggio non permette di soddisfare il fabbisogno e già a partire da fine anno, per poter sfamare gli animali, gli allevatori dovranno acquistare il fieno da fuori regione. Col diretti Abruzzo rileva infine problemi anche sulla produzione di miele, con gli apicoltori che hanno dovuto dire addio ad oltre un vasetto di miele su due, con le api stremate per le fioriture azzerate e con almeno il 60% e meno di raccolta condizionata dal caldo e dalla siccità. Il Pineto di Mister Cudini pareggia il Liguria 0-0 con il Sestri Levante. La formazione bianca-azzurra è andata vicina alla vittoria, ma non è riuscita a concretizzare le tante occasioni. Ancora un pareggio senza gol del Pineto in trasverta, stavolta nell'anticipo con il Sestri Levante, con la squadra di Cudini che sale in classifica a quota 2 dopo il pari nella gara inaugurale con la Lucchese. Non è arrivata la prima vittoria del campionato, ma ci è andata vicino. La compagine bianca-azzurra con una buona prestazione e occasioni, soprattutto nel primo tempo, dopo un avvio equilibrato e una punizione dell'ex Pescara del Sole, senza esito per il Pineto, entrambe le squadre che scaldano i motori per una partita che si annuncia equilibrata ai padroni di casa che ci provano su punizione. La grande occasione, la prima frazione, è per il Pineto al 37esimo, su un errore della difesa di casa, il contropiede degli ospiti che termina con un palo di Bruzzaniti, con quello che avrebbe potuto essere il primo gol stagionale, oltre che una rete importante, ai fini dell'esito del match. Ahimè, la risposta del Sestri-Levanti con Parravicini che cerca il tiro a giro e la palla vicino all'incrocio dei pali. Nella ripresa ancora Bruzzaniti, pericoloso, si è visto annullare il gol in avvio per un fallo in attacco dopo il cross di Del Sole e così il risultato resta inchiodato sullo 0-0, reagiscono i Liguri con un tiro di Pallavicini, parato da Tonti al 51esimo. Nel finale ancora Pallavicini non approfitta del tiro di Podda e neanche Pane riesce a sbloccare il risultato con uno stacco su corner in una fase nevralgica della gara. Nel finale ancora Pineto con Shakir che si vede ribattere il tiro dalla difesa, rosso-blu, Poi tocca a Gambale di testa con il tiro che finisce alto. Al 98esimo il triplice fischio che consegna un punto a entrambe le squadre per una gara che Pineto ai punti avrebbe vinto ma che ha visto la squadra adriatica poco fredda nelle occasioni salienti. Per la prima vittoria e il primo gol del campionato bisognerà attendere domenica prossima quando al Mariani arriverà l'Arezzo. Si chiude qui il nostro Tiggio Abruzzo, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento, arrivederci.